io qui a destra perché se non mi mi distruggono tutta la visuale non posso giocare come so giocare io davidino edda test di rapa chiamato dagli amici anche davidino edda e ragazzi adesso non so che dirvi questa partita sarà molto emozionante per tutti noi perché potremo dimostrare le nostre capacità al team di apex che si chiamerà forza max pro 71 forza forza test di rapa e forza bt 49 quindi ragazzi vediamo come andrà questo previne intanto mi suicidio e vi osservo ragazzi quindi buona fortuna bella ok ragazzi vedo il giocatore max pro è molto forte ho visto dalle chili un po basse però potersi che ragazzi alessandro c'è un microfono di merda comprato direttamente dal cinese sotto casa perché non c'è soldi perché a morena non guadagna niente solo il padre guadagna per lui e invece lui non vuole fare nessun lavoro e vorrà da fare da grande l' avengers quindi ragazzi andiamo a spettare e no per finnes ragazzi ora andiamo a vedere picchi 49 e quanto sarà forte picchi 49 mi piace adesso è venuto da pochissimo da un team colucci team che era molto forte quel team solo che sono smembrati in varie categorie ma che forci io ho scritto va bene scusa ma che fortini ora mi muto per vederli molto meglio bella ragazzi dimmi la verità non ci sono persone eccoci ritornati un attimo di pubblicità per sponsorizzare la pepsi con spampinato cosa interpreta il protagonista e ragazzi non so che dirvi tra pochissimo il tre firma più attesi del 2019 c'è john wick 2 la parte 2 veramente veramente c'è john wick 2 forte già uscito ragazzi e andremo a vedere questa recensione film molto bello attore bravissimo ovviamente il massimo proiettili e che adesso mi servono perché su avex non li trovo mai e quindi ora ragazzi andremo a vedere molto approfonditamente come riescono a giocare questi ragazzi su creativo andiamo su crepino vabbè andiamo a vedere uno dei mi sta sfidando uno dei giocati player lui dovrebbe fare il provino e io il capo provino quindi dovrebbe stare solo zitto però questo è un punto in meno che max pro si potrà trovare per entrare nel provino quindi ragazzi segna un cazzo ho tremato ho tremato oh toma pocchio dio toma un attimo sto giocando con picchio pozza 49 picchio max pro quindi sto a fare un provino per il pozza quindi non posso più scusa se c'è un preludo si però c'è o innanzitutto te il ragazzo nella migliorare un po il comportamento su questo team perché in questo team noi parliamo poco e precisiamo le cose più importanti e lui dice te la pinda al culo mi tira al culo non è molto bello quindi ragazzi segnate pure questo perché max pro non sta molto bene per il comportamento soprattutto ragazzi questo questo ragazzo mi sta sfidando e non crede che sto facendo live moglie la condivide lui la vedrà tutta ragazzi ragazzi fatevi vedere i quaderni portare i quaderni la prossima volta e poi se lo dimentica la prossima volta e poi porco ogni volta portati i quaderni portare i quaderni con tutti gli appunti per scherzo non sarà entrato comunque perché non sono giocato ma scusa ok ragazzi scusate ho scritto a ciccio gamer che mi voleva fare una partita e pregio destino perché devo fare un attimo questo proviene prendono a giocare con lui da come stanno giocando non push a nessuno che pippe de merda però non glielo dite in chat scrivetegli tipo bravissimi davide vista un problema che serviva esatto e max pro mi sembra quello più scarso tra i 3 e però vediamo se si risolleva no max pro non sa poco giocare perché non si riesce a muovere molto bene in questo ambito però vuol dire che giocherà da poco quindi ragazzi possiamo vedere ancora scrivetemi tutti i live ragazzi come il cliente pensate siamo tanto già in 10 live quindi ragazzi orconcibili mi stanno arrivando 23 messaggi alla volta vabbè ragazzi scrivetemi tutti i live come vi sembra max pro e mi fate sapere no ragazzi perché siamo in nome adesso in live servo dei coglioni che è uscito un gioco tu giuro stanno allora è di io che sto sempre live io a parte in aero sta sempre live sto giro un altro giorno ho fatto insieme a a burghesi e forco 5 ore in live ok ragazzi max pro non mi piace dal comportamento infatti ora l'ho mutato perché è un giocatore molto gioco solo per lui non gliene frega un cazzo poi quando muore e cerca di essermi animato e te la vieni a rimanere il culo perché io non lo andrò a rimanere perché già mi ruota il culo poi questo qua si mette pure a dire e no no stai bleffando no fa così sta bleffando sta bleffando mentre gli staffa una sega e mi manda le foto della sborra con i nei tutti i che esplodono quindi stai zitto per favore non è un comportamento da mandare a un capo o sei proprio che mi mandi le foto dei tuoi piedi vicino alla tua sborra vicino ai tuoi nei perché se no non mi ne fregano letteralmente i un cazzo fate me sta zitto un attimo ragazzi abbiamo visto dei nemici che hanno segnalati ora andremo a pusciare vediamo come andrà questo primo attacco a questi nemici e chi è che l'ha visti signori tra v3 ok lorenzo li ha visti quindi vuol dire che è vero perché se l'avrebbe visti ma che spero porco dio mi hanno aggettato mi hanno rotto il culo porco dio se già mi hanno rotto il culo ragazzi nemmeno iniziato la partita porco dio però ragazzi questa qua aiuto mi sparano le ste granate del cazzo che mi sbatta al culo però ragazzi così mi piace così mi piace tutti attenti tutti concentrati invece nessuno sta fanca uno a terra signori quanti sono forti uno che cambia lì magari muore manca l'ultimo ragazzi tutti a supportare il creatore ragazzi supportatemi il creatore adesso tiravo a 0-0 su fortnite manca l'ultimo frocetto che lecca i cazzi ragazzi da v290 lo vede se si tirava prova ad andare da solo pure se lo conferma ci prova non lo vede più ragazzi da v290 l'aveva visto non lo vede più ragazzi l'avevo visto qui dentro dentro questa casetta dentro la casetta l'avevo visto il suo progetto fuori cazzo fuori cazzo si non lo vede più questa è la nuova parco dio eccolo 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 dove sta? come viaggia la ventaglia grazie go go power ranger oh cazzo ma c'è un gpitar davanti a me sto da un de merda cazzo ho tolto tutto il gpitarre bianco eh ma non è? vai chi è qua? pura me ragazzi come primo fighter è andato bene c'è da dire che tu ti prendi quello picchio anche quello bravo nessuno l'ha ascoltato io me ne sbatto il cazzo e mi faccio il crito è felice mentre gli altri stanno morendo di fame come in africa perchè non sono lì picco ragazzi come primo fighter ragazzi come primo fighter non è andato nemmeno tanto male però questi ragazzi non mi stanno facendo impazzire quindi possono fare di meglio secondo me possono fare molto meglio ragazzi quindi vediamo come se la cavano dai ragazzi 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 sto a perdere la voce non ce la faccio più eh non parla ragazzi non toman su estate raga porco giro ma aspettano regalo pò piccolissimi giovedere cazzi Lasciano pure un compagno di squadra dietro Che potrebbe essere impintato da vari nemici Però a loro non gliene frega Quindi potrebbe essere irritato Anche noi possiamo essere irritati Ma voi siete in due coglione Io sto da solo coglione Ragazzi Desirava si sta per prendere lo scudo corporeo Desirava mi sembra per ora il più forte della squadra E quello più probabile Entrare nei box summon Perché gli altri video non mi piacciono Come giocano proprio come Raga ma c'è una cazzo di nave qua Oh porco jibri Ma adesso ma dove cazzo stai Ci vogliamo andare No ma chi ti sei in culo No non sei No non sei No non sono salito Oh Alessandra ti togli sti video Non sei una coreana che vuole uscire Dette davanti a tutti Ti vuole pure togli sto microfono da bocca O te piace Fai bocchini O altre cose Poco brati Vabbè mettilo vicino sti cazzo Basta che Ti stai zitto Porco jibri Basta che non parla Max bro Zitto Allora lei lasciami qualcosa Se no ti stai col cazzo Bravo No no Quata Calm down Round 3 Adesso ha detto round 3 Calm down Tutti in polizia porco Dicina Nananana Mi sentite così ragazzi Ma non ci sono mai venuti Stavanti della mappa Ma tu cazzo stavo Ti ho reso mai venuto qua Ma sti cazzo Che sta Lorenzo Cazzo guaglione Ma non ci vorrei fare Ma che cazzo è Oh ma è uno di Morena Aiuto Ah mi picchia Ah è uscito Morenuccio Mentre da un amico di Alessandra L'ho detto Ma questo mi ammazza le botte Invece no È uno di Morena È uno di Morena Scappamo C'è infetta Con la formagite Alessandra è pure Alessandra è pure infetta La formagite Sì Sì Ho di avere di una schiappa Ma che sei down Nelmeno sa che cos'è la formagite Coglione Ma facciamo morire Allora Ah io quando le Morena Munizioni Rega qualcuno Altro che c'è le scude Rega da ora Le scude si chiamano Colucci Borghesi li chiamano Colucci Oh Quando Colucci li chiamano Borghesi 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 chiamano Colucci Le voze No aspetta Scetini Li chiamano Colucci Quanto mi fa tagliare Oggi questa mappa di merda Abbiamo fatto Non mi ricordo Ne sono a merda Venite Oh venite Eh stanno Un po' allontano Adesso Vabbè Merti qui Stanno qua davanti a me Oh c'è uno nero C'è un black panther davanti Cazzo Oh C'è un black panther davanti Davanti a me Come se non gliel'avessimo detto Sono sempre davide Però va bene No non hai visto che sei coglione Non si deve mettere a fidare con questi Oh vabbè ma Ah raga porco Vai 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 non vi preoccupate Voi sparate Voi sparate Voi sparate No raga sei un po' dei coglioni Raga Voi c'è un po' nel culo questi No no più terra Dobbiamo ammazzare No è porco No Non mi hanno terminato una partita A stermi a te Allora te credo se devi far coglione Ma io ne ho Oh Oh ma come va Guarda quanto ti stanno Guarda quanto ti stanno elevate Pari normale Ti portare Non so che il presidente Sei nel coglione C'è fatto perdere la partita Ti può parire normale Ma no c'è fatto perdere Io ho sparato io Io ho fatto 18 Quanto è probabile che stanno Venendo a prendere Tanto Certo Che gioco Proprio una merda Cioè È fatto proprio Con il culo Perché qualche volta Tolgo 930 Focco In faccia Nate volte tolgo 2 Che culo Guarda che bello Dovra mi viene da sburrare Guarda che bella sta si Oh si è matta Wow Non è però qui è sbagliato Non puoi mettere a te cazzate Se niente No però porca madonna Io ti stavo No non devi vestire a te cazzate Perché stavate parlando Che morano Sì 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 Ok È chiuso No aspetta Faccio così Prendono Vabbè Un po' inutile Ma tanto Il petoglio Un po' Non mi do Sto cazzo Orca miseria Stati in due Farco cibi Mi sono morto Due squadre Giocati E' arrivato Fino a qua E' tanto Non è Natale Depend Si Vittoria Ma perché Devi Fammela Gli stessi Voglio Ragazzi Mostrata Una scusa Perché Nel buono A giocare Dice Cazzo Esatto Esatto Qualche problema No Qualche problema Mi scusi Mi scusi Signori YouTube Sono Niente Tu Stavo Sti Ragazzi Mi Leccano Poi I Ammortizzanti Ammortizzanti Allora 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 Già mi sto pisciassotto Perché mi sto cagassotto Perché non so giocare Quindi perde E poi mi è incazzato Ti stai a pisciassotto Perché ti ho Giuro Mi sto pisciassotto Io piscio sempre sotto Quando sto Sono rimasto da solo Mi sto pisciassotto Letteralmente No Regà Devo andare in bagno Mi ci faccio No Fermate 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 Mi sto pisciassotto Mi sto pisciassotto Vai Campia Ok No 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 Regà Mi sto pisciassotto Regà Non ce l'ho No Regà Ma te ci puoi andare Io no 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 Io sto Guardando Io pure Mi sto Grattando Tra un po' Si Sdruma Sto Cazzo Eh Diventa Come quello De Morena Aiuto Uno De Morena Prima Prima c'era Tommaso Avevo cominciato A mettere Oste a bici La canzone E Mi sto pisciassotto Basta Porco Dio Ora sto Molto Meglio Senti Più Libero No sto Scherzando Ancora Mi sto Pisciassotto Maggia Madonna Zitti Zitti Ti c'è C'è stato Cazzo Mi sto Pisciassotto Io Però sto Troppo Sto Troppo Io Sto Troppo Epico Miralla Miralla Ti prego Fate la Siffra Qua Porco Dio Vabbè Ci sto Attaccato No No Non ti devi Muovere Esci Dopo Oddio Quello è un robottino Quello è un robottino Quello che ti dà la roba C'è lì le scudo Fate le scudo Fate le scudo Fate le scudo Che culo di merda Non lo dai mi sto pisciassotto Mi sto pisciassotto Sì mi sa che siamo rimasti uno contro uno No C'è buono L'hai messa a terra uno Io non ho messo a terra uno No Zitti Zitti No rega Ma mi serve Rega mi serve tutto il vostro aiuto Zitti tutti Io mi sto pisciassotto Uno che mi fa share play di gioca Zitto Dai zitto Se no non serve Zitto Ahia Dore Ahia No rega Ciao Cavaccio Mi sto grattato la mezz'ora Mi sta frullato Mi sta diventando frullato 46 secondi 43 42 Sì davide Ce la puoi fare Resisti Sappiamo tutti che ce la puoi fare Vero rega Fatemi incoraggiamento No fatemi incoraggiamento Ressa fatemi incoraggiamento Fatemi incoraggiamento Stai scitto Hai visto come parla Moreno Stai scitto Zitti Zitti raga Zitti Ciullo zitto Zitto Sono carico Sì Sì Sono carico Ma sono carico Ma chi me frega Ma chi me frega Io ero un percola a tutti Sì Non mi sto pisciando Veramente sotto Come mi sta esplodendo La vescica Però in verità È solo l'ansia Se io non ci penso È gioco tranquillo Eccoli L'ho visto Zitti Eccolo L'ho rivisto Eccolo È arrestato Non mi vede Mi fa ride Aiuto Aiuto Davide sei forte Adesso non sei nemmeno tanto forte Però ce lo puoi fare Non uscire Aiuto più avanti No Non tappi avanti Eccolo Zitti 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 Raga No devo uscire Raga mi sta pisciando sotto Oh comunque vada è stata colpa mia No raga mi sta pisciando sotto tantissimi Ok Non ci devo pensare Raga parlamo di qualcosa Beh Marta ti ha dato Quanto è buona Oh mio Dio Eh no Vabbè così siamo costronze Vado per Marta Per Marta Per Marta Per Marta Fermo 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 No Raga non ci faccio Eh niente Eh niente Per Marta Non ci faccio il primo Non mi sta più a pisciare sotto Ma era da solo Vabbè vabbè No era pure un altro C'era pure blog Dai dai però è stata colpa mia No raga era da solo mi sa Eh no no c'era pure blog No no c'era pure blog Ci ho provato No raga No raga No raga Vado a fare subito la pisci Che pesa in culo Dai Un attimo sto aprire il pacchetto Che merda Rega torno subito Rega torno subito Rega torno subito Per Marta Per Marta E' un tag Rega torno subito E' un tag Per Marta Come? Come? ma il momento ma il momento roma cazzo non amore salisario il playoff comunque anche solo che noi usciamo subito non so riamne fanno un pochettino smr ma perchè stavano a quattro il cazzo ma è vero cazzo è vero io la mia casetta dove sono morto ma non ho ancora trovato un attimo si gioca la cosa principale è l'ultimo velocemente centrali armi era un po difficile c'è ragazzi non non ma voi avete trovato per caso un'arma eh sì c'è una due non sai che fortuna io non c'è una zero mi saluto da l'altro ah ecco eh mi saluto da metà metà lobby mi rende oh no mi s'è rotto comunque te l'ho di coglione eh te l'ho detto che è il meglio non è il meglio forte ah dai prova a fammi prova a fammi dai prova a fammi non lo vado a pushare io te conviene te conviene a questo punto te conviene te conviene te conviene fila dai via qua fila da questo punto te conviene zitti si deve mettere su dal palazzo ma dai chiudi sto cazzo oh c'è un longlow buono ma non lui alas girl mi come mi as è l'an non è nell'imper Clinic magician ho cazzo 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 è successo alessandro come piacere piacere occhi che buce del culo grande regali tribo tribo che troppo no più forte il nome lo sai da solo quindi un'altra volta il capo io per la base che tu sai come la pensi io lo amo l'omulo quindi a te non bovo proprio una casa sola che poi per carità è forte però insomma ma mi dice sta il coso per vedere sta la prossima si non è fatta arrivare a quel coglione io avevo una prende io ok il mio signore da riemi ma io e voi per il mio testo si abbiamo una prossima si la rarigata l'accento faccio stesso prodotto da solo tutto io da solo animato amai da rianimato ma credevo che c'era un'altra domanda ma io pure state detto giusto porco ho detto porco il caso e' il mio giocatore che c'è tra il gioco ormai regala 6 cazzo ma ci stavamo vabbè nostri cazzo non sono amati c'è un vegetale di era un po fa niente ma mori mamma al posto di prima del merda che non ci sono mandato non ho calcolare al centro se non c'è per nessuno c'è stato uno scudo viola che buona e con il mio amore mi faccia la doppia questo è il cosiddetto non si non potevi già stavate rimanere gioco stavate rimanendo messo un po risalvato alessandro in generale c'è di gesto e alessandro in precessa l'altro e dia basciava dietro sto c'è parola c'è il coro di roma roma quello c'è il gioco il il anche in testo un cuore proprio anch'io sicuro per favore quanto sei talento se alessandro mi dicono che c'è un po' di troppo non è stato a sbrigare vabbè sì però è una cosa bella che su sto gioco la safe ti può tagliare pochissimo sì io prima ciao alessandro guarda tu sta alessandro no alessandro no alessandro ah no si ponde da stessa parte per fortuna perché se no andavo già siamo andati così lontano quindi i posti diversi ok noi ci stiamo in safe stai attento guardate alessandro guarda alessandro guarda alessandro è un'altra ma tu stai alessandro ma tu stai alessandro no non ci credo ho sbagliato no alessandro sei proprio un coglione e tu cazzo stai sto cito sto cito sto cito sto muro ma che voglio amore state zitto sei arrivato quinto al girone sei arrivato sei arrivato quinto al girone dovresti stare solo e zitto e abbassate al livello delle scudine coglione no alza no 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 dove po' cazzo stanno ho visto una testina di che ho visto una testina di riavo mamma mamma sbaglio non cazzo io ero sto cazzo si aspetta no no facciamoli vedi da noi qui è un po' per culo cioè perchè c'è oltre volte congli una gira eh io faccio io gli agire con l'onglo gloria gli sfondo vai è capita una tattica vanno qua vanno qua vanno qui vanno qua porca madre bella vittato cazzo sono felice per te scappa scappa c'è uno dietro oh ma come cazzo fa oh sono fame mi prende ogni porta eh vabbè oh questo è il compagno Alessandro che resta indietro si deve andarlo si deve andarlo vabbè 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 dove vabbè quanto gente guarda alessandro rinambane no no porco ma la mira corriere il programma ci riesci si 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 gliela potretti fa però meglio che vai a piattare gliela potresti fare riavimi mi hai presi scappi riavimi mi scappi fidate scappa 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 si no no av饉 in nasconde si si nasconde nasconde Dio leva Vabbè ricammo non mi vede che stia già gioca con lui Basta Eh Leva Dio Sì sì certo Staremo più uniti Vabbè qua però forse Boh Ragazzi ce la dobbiamo fare Ci stai da? Sì Ok ok Ci stai in live vero? Stai in live vero? Sì Ok da ok da Cioè possiamo fare ci stai alle? Ok ok Se non la muo Questa è un'internativa No vita Eh vabbè niente No adesso no No non andiamo se ne lontani che poi non ci fa nessun bravo là vabbè Boh Io vado qua a play cazzo No perché se la seguente del gioco è finita io vado qua a play cazzo Non è tutto Non esatto come a me Andiamo No Ok 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 non sto bene tanto a finire subito a pensare a Davide che sta lontano vero perché Davide è sempre quello che si divide dal gruppo vero come è Davide lo dice sempre che Alessandro è sempre quello che ci divide il gruppo così dice sì noi vogliamo fare una cosa e lui vuole fare un altro e qui si deve sempre dividere lo dici così non mi prende per il cuore vero parco hai visto allora non dì che non è vero prima entra l'amico di Morena oh Alessandro giochiamo a forza Davide aiuto uno di Morena scappamo c'è a cortella quello va all'albero sicuramente va a scopare se i giliteri di io non ci sono avanti io io mi vado a dormire bella mamma tu quando vai a dormire? buon stanotte oh ma questa notte ti quando vai a dormire? io adesso no è strano è mezzanotte e mezza non lo so domani a tina te devo svegliare è perché mi muoio eh mi sveglio oh notte ok notte si vabbè non lo staccare gli stracuri guarda il capito con te guarda il capito con te la porta mamma la porta la porta no la porta tranquilla la porta si ti vuoi ma che soffoco ma che soffoco in una camera? che soffoco ma che soffoco come me da un po' che ha tirato male? eh? si è un po' che ho tirato poco poco eh poco poco infatti mi grato perché prima mi stava piscire sotto mi sono grattata una cifra di corte regà gente caccola che regà putnamo anzitutto bisogna prendere i ground andiamo go io butto una bella esca che cammina insieme a noi solo sotto così si fa capire che stanno arrivando io non li vedo io li ho visti sono rincarati dentro le loro case di me eccoli eccoli no un'altra ma quanti ce n'ho vediamo dove arriva una mesca per fargli prendere il corpo buono guarda dove è arrivata eccolo allora io ne mando un'altra guarda dove arriva quella qui si si carica proprio sotto quello no si è bloccato cazzo se se c'è una ma è uno sta là sopra si si ci ha pure visto è stato 50 di scudo e 50 di vita ci ha messo che quella abbastanza ci ha è stato un'altra e non è stato un'altra sono simpatico vabbè 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 io percora con il longbow gli ho proprio spassato tutto Io intanto me lo faccio vedere i granati se chiama il cazzo Easy bro Ho uno che mi aiuta raga 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 sto fatto tutto da solo Ah ok ecco No 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 ce ne sta uno qua Che balle oh Cioè è qua sopra io ero fortuna ecco io ho proprio spaccato Ma lo tu vai? Sei matto ti adesso Sei matto Non ho mai visto un giocatore così matto Però è bravo ha fatto no Statemi Vai adesso vai adesso Lo che fa adesso Sta sotto bravo Sbrigati Anitta Ma adesso corri corri a rimarci c'è un altro gruppo C'è un altro gruppo corri corri Rania poi rianimatemente mi hanno scappato Scappato subito Scappato subito Spituto scappamo 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 Ria anima ria anima ria anima ria anima ria c'è gente c'è gente e scappando però c'erano le cose che ci porta via c'è bu ecco merita però così andiamo più vicino stanno la come c'è? stanno pure la infatti fai le vietà solo di loro stanno qua sotto per qua stiamo sempre di qua rica volendo io potevamo pure sparare però vabbè no rica, si dovevamo allontare un botto da loro come stai a seguire rica? curate infatti fermamose qua dentro rica fermamose qua dentro io lo so curare mettiamo semmo fatti buono buono rica ok kit e mi cura tutto oh rica l'ore l'ore non c'è me no vedi che quasi hanno luttato perchè se no eh cazzo non luttato niente e che cazzo oh cazzo munizioni energetiche l'ore vedo no alessandro munizioni energetiche l'ore munizioni energetiche l'ore vedo alessandro noi abbiamo più essenti dobbiamo essere più intelligenti di loro erica mai se non trovo la munizioni siamo morti perchè avete una persona in meno eh zi cambiarmate eh non c'ho no so cercan' altra arma quando la trovo erica tarpa erica sono andata davanti ma in una maniera incredibile erica no erica perchè sei distaccati no ta sei te che sei distaccato io non è vero perchè sei accanto a max pro eh pure io scendiamo raga scendete scendete siamo a meno vedere scendiamo ok non mi sarei messi vai ok qui sotto su raga invece colpi questi qua quelli verdi quelli verdi celestini arco gifre raga però eh no raga cambiavi ricambiavi ricambiavi che maglia arma cavolo eh non è non trovo altre armi c'ho quattro colpi per ogni arma no con il finocchio se è un bacino corte se vuole vedere tutte per lui su chiama il cazzo vabbè su chiama il cazzo sit vai no eh percola stanno la ecco infatti dai ragazzi fumo andavo se ne vai guarda la ragazzi che si ti ando a dove te ando a dove? ma che cazzo? ah ok per questo popolo vabbè ragazzi ho quello che push sempre vabbè io vado a pusha mentre voi io mi sei la spero? si stanno la ok io dico mi sono così io la facciamo un boccanone vai saltate ve lo dico io ve lo dico io saltatevi ora 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 raga affidatevi ora quando scende uno sopratetto e uno e due uno dentro a casa e uno sotto go 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 vai raga vai raga raga no mi hanno distrutto mi hanno distrutto mi hanno distrutto adesso corri 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 adesso vai vai raga l'avete fatti attento no c'è la via vai raga no le sa vai picchio picchio ti prego picchio ti prego no si si no no che cazzo lorè sono morti tutti si si ok ecco via qua via qua via qua via qua via qua no è finita via qua qua scappa 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 lorè vabbè vabbè dove gli pensaci prima però scappa poter un po' nel culo buttare sotto buttati sotto l'altra parte se non c'è problema la mentalità di gioco tira te c'è problema la mentalità di gioco ma il cazzo dice qualcosa di no finitati oh te fidi ma come cazzo faccio raga ma che cazzo dici che stanno dietro tu dove 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 eh 100 metri stanno là non cazzo scappa 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 ma che cazzo c'è scappa 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 ma che cazzo c'è scappa 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 se becco gente oh se becco gente mi fa lo sigla pacco b ma che cazzo 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 non lo so perché scrivo strano non lo so perché gioco ancora da pezzo non lo so mi l'ha aspettato e dico boh perché scrivo strano non lo so ma so che non me ne mentirò preferisco stare con me bro mi ha visto che stasera ci stanno i gold state contro i clippers non ci sono i clippers contro i clippers contro i gold state veramente che fanno non ci credo federico ci va diceva l'eserano come 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 l'ho l'ho diceva allora sanna o riga vabbè se vogliono andato annuncio io amo ma notte che capo. acqua mi piace mi piace studiare giusto ho fatto a vedere no 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 attiva già l'altro giorno attraverso una volta 40 minuti e terzo la termine via ma con il giorno per acquarmi la tua proposta non non e io volevo e io voglio andare a me che fatti beh te non conti tanto eh lo so scherzo dai scherzo io voglio fare il resto io mi metto l'easy fake si pure io metterò per un altro tipo di scarpe che gli dico che ho pagato i 400 euro io voglio proprio voglio fare voglio fare figure del merda non davanti a baricoglio e poi questa box logo è palesemente fake ma le pagate con due polsi alla fattiglia dei soldi oh rica rica a borto non è solo io non lo so come il caso questa operazione all'inizio non lo so come non lo so non lo so Stanno a spaccare il culetto, eh? Eh, sta forte No, 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 Alì, no! È pazzo Maddo Aspetta, Davide, 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 ragioniamo Easy Ma tutto quanto s... A terra Fatto, ucciso Ok Lutta te che stai messo non a merda No, lutto io Eh, lutta te che stai non a merda Oh, sto, sto spotifier Mi, 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 mi fa arrabare Poco tanto Doppio spotifier No, dai Scudo, c'è al massimo, kit medici O è kit medici, mi serve Oh, no, è kit medici Ma non c'erano Ma non c'erano Che vuole nessuno, kit medici 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 Comunque non vengono online Ma se la Maria di Malessandro sarebbe un'ottima te Guarda lì Qualcuno Ma te, ma te, te, ti hanno visto Ti hanno visto Ci hanno visto Scappa Ma te qua se non ando bene, se scappa bene Scappa, 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 scappa Tu dovete vuoi scappare Ma non hai visto, scappa Se c'è un beccano qui qui fanno un tre E vi vedo pure cazzo Ciao qui io vuoi sparare E me o肝 Ma favo, mi favo una cazzo di per noi Io, per una volta Tant'io da erendori, ma Alessandro, vieni di vedere che hai avuto tu stavolta No, a me mi sparano, sicuro. Posso salire su questa roccia? Eccoli. Oh. Eccola. Scappa, scappa. No, no, è finita la partita, è bello. Dopo quei sit che mi hanno rotto il culo. Belli, regà, belli, regà. Belli. Dai, oh, però, porco di... Dai, mi hanno rotto il cazzo. Eh, no, no. Mi hanno rotto il culo, non puoi capire. Mi hanno distrutto. Eh, vabbè, dappertutto, porco di... Ah, vabbè. No, regà, ma vado su Fortnite. Molto meglio, regà. Eh, da devi accettare la sconfitta. No, devo accettare che forza di termine di Apex, come sta in prestare. Eh, quella la sconfitta, non è. Sì. E' sempre più forte di ciò speso con i soldi, mi sa pure divertito di più. Prova che a me, cosa mia, la rifà. Apex, sta grafica di merda, c'è sempre gente più o più. Non so, forza, l'interno c'era bello. Cioè, se puoi provare a fai da tanto, ormai non c'è, non niente da vero. Io mi sa che... Non mi ha distaccato, però se io devo un gioco... Ah, Apex, non sa che sta... Oh, no, 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 no. Mazzola che cazzo ho fatto? Ma che cazzo ho fatto? Ma che cazzo ho fatto? Ma Alessandro che cazzo ho fatto? Li hanno dato in bocca e poi è scappato. Ferma te, Sper. Ma c'è l'ai un'unizioni? Alleluio. Bisogni Ah, bisogni... Matteo schianglios Ma voi siete andati su Fortnite, io?